Ragazzacci, buona giornata. Botta di sole, ieri ragazzi ho la pelle un po' bruciacchiata. Vediamo come va la sbarbata. Allora oggi andiamo con questo colonia rasol Nesse. Questo era satinato però ci ha dato una bella lucidata, vedete? A me mi piacciono di più così, belli lucidi. Montiamolo con queste cai, mettiamo una lavetta nuova. Mi sta succedendo qualcosa con queste la mete, che le uso un paio di volte, poi le lascio ferme e non lo so, quando le riprendo le sento un po' strane, che tagliano poco. Non so se a tenerle ferme un mesetto può poterle usate se si sciupa il tagliente, non lo so. Ho usato una l'altro giorno e non tagliava. E sono sicuro che era una la metà quasi nuova, l'avevo usata tre volte forse. Allora montiamo la lavetta sul rasoio. Ho un po' di esposizione. Non so se la camera riesce a inquadrare però qualcosa si vede che ha la lavetta. Sembrerebbe leggermente positiva. Allora il saponcino di oggi, questo saponcino che si trovano su Amazon USA Rocky Mountain Barber Company. Questo è Barber Shop. Questa formula è vegetale. La pasta è abbastanza morbida. C'è bisogno di lavorarla tanto perché è veramente morbida. Il solito pennellino che sta in brodaggio. Vediamo come monta questa schiuma. Che vegetale. Lì c'è scritto talmente piccola, ragazzi, io ve lo metto. Poi fate un fermo immagine se riuscite a vedere qualcosa. Io non vedo quasi niente. Stiaric acidi, coconut oil, glicerina, potassio, fragranza, mentolo, sodio. Spiuma. Spiuma. Forse qualcosa sta facendo. Ci ha messo un po' a montagna. Profumazione molto leggera, classico Barber Shop. Classica profumazione Barber Shop, però molto leggera. e vediamo come va. La schiuma mi garba. Ha preso acqua e queste schiume bagnate. Non si sente una schiuma secca. Non so se vi ricordate nell'ultimo open box che mi è arrivato un sapone dalla Svezia, un sapone duro. che vi avevo detto, ma mi sa che questo va in doccia. È in doccia, ragazzi. A parte non fa schiuma, ma poi la pochina che fa, potete contare uno, due, tre e sparisce. Magica. È la schiuma magica. Anche questa mi sembra che ha lo stesso problema. Vedo spalmo, spalmo, spalmo e appena mi fermo, boh, sembra che sparisce. E' un alimentante economico questo sapone. Non mi ricordo quanto costa. Sta sui 16, 17 dollari. Vabbè, comunque vediamo. Vediamo come va. Se scorre la lama. Non è che sia anche come schiuma. Come qualità. Beh, si vedeva bella umida. Aveva preso l'acqua. Io vedo che tende a svanire sola. Vabbè, vedi, magari è molto scivoloso e la barba va benissimo. Vedete che prima sono passato, guardate, già sta. Ma era tanto che l'ho d'occhiavo sto sapone. Alla fine mi sono deciso di provarlo. Male che vada, si usa le braccia anche questo. Allora, General Colonial Rasor SE. Vediamo come va sto rasoglietto. La metta un pochino si sente. Vedete, va usato con un angolo abbastanza aperto. Comunque, taglia che è un piacere, ragazzi. Eh, fate bene i rasoi da con ogni rasoio. Questo mi sembra che è la prima edizione che feci di questo rasoio. Poi gli cambiò il manico e glielo mise uno tipo cannone. Questa è già benissimo, eh? Molto peso il rasoio, eh? Rispetto a un vector, mamma mia quanto pesa questa. Mi dà l'impressione si sente un pochino di più la lamenta che il vector. però, però, gestibilissimo il rasoio. Sicuramente un rasoio anche da dare tutti i giorni. Ottimo, 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 veramente. Ma il sapone e la schiuma non è gran cosa, ragazzi. Però, mi sono onesto, il rasoio scorre benissimo, eh? Profumazione molto, molto tenue. Classico barbershop, ma appena appena si sente la profumazione. Questo è il tipico sapone che poi uno ci può mettere qualunque tipo di after. perché sono sicuro che a lavarsi la faccia non rimane niente di odore. Magari un pochino nel pennello, ma in faccia è talmente delicata. Però piacevole, eh? Come schiuma magari non gli si dà, eh? Vedete che copre un pochino poco. Però, ragazzi, vi sono onesto, il rasoio scorre che è una bellezza. Sicuramente il sapone vale anche il resto. No, lo verso. Puoi la metà nuova, ragazzi. Alla è un piacere. Alla è un piacere. fantastico, fantastico il rasoio. Nadega. Niscia. liscia, 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 un po' meglio della eruzione. Io ho un problema, che come ho la balza molto in fuori, con queste lame così lunghe, è complicato fare il traverso qua, perché corro il rischio di portarmi via la punta della balza. Andiamo a farlo in più pezzettini. Mamma mia, che liscia anche la zona baffi. Fantastico, ragazzi, fantastico, fantastico, fantastico. Diamo una ritoccatina, zona bassa del collo e un pochino di obliquo qua sulle guance. Un obliquo quasi controvelo perché mi lascia leggermente inclinata la barba sulle guance, proprio non mi lascia, non mi lascia proprio in giù in giù in giù. Allora, vediamo zona bassa. Benissimo, non mi fa male il taglio del pelo in zona bassa del collo. Ottimo, 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 ottimo. Lo avrà anche benissimo. Appena, appena, appena. Ottimo, ragazzi, ottimo. Considerate poi anche che ho una pelle bruciata dal sole oggi. Scusate come sono mi bruciato. Tutta la giornata al sole. Qua sono ora le sette e venti quando faccio il video, poi io ve lo metto domani mattina a voi. L'unico che ho dovuto fare è qua in zona bassa, perché ragazzi, con questa lametta così lunga, la mia bassa così sporgente, è un casino, però. Ottimo il rasoio, veramente delicato e profondo allo stesso tempo. Mi è piaciuto tantissimo. La barba non era lunga, era una barba di due giorni. Non ha avuto assolutamente nessun problema. Allora, il sapone è rimasto poco. Un pochino per passare la lume. Appena, 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 un pochino bisogna guancia, perché avete visto che poi alla fine ho fatto anche un contropelo complesso per provare il rasoio bene. Zona collo, sì, sento un pochino bruciare, questa zona qui. Qua sotto anche, sento un pochino bruciare. Però, ragazzi, anche la condizione della pelle di oggi, che veramente ho preso una botta di sole. Io direi che veramente è stato ottimo, considerando come stava la pelle. Il lavandino è pieno di zeppo di peli, che porta via, si è portato via. Allora, sciacquiamo, mettiamo un pochino di after, facciamo due conclusioni. Allora, c'è un po' il pennellino che ogni sbarbata sta diventando meglio. Ormai non punge più assolutamente le punte, già il maiale deve aver fatto le doppie punte. L'ho usato anche in una sbarbatina quando mi sono fatta l'ultima volta la barba, non me lo ricordo. Però, al giro due giorni fa, sta veramente diventando ottimo il pennellino. Allora, partiamo dal sapone. 16 dollari non lo ricomplerei, vi sono onesto. Però il suo lavoro lo fa, ragazzi. La metta scorreva benissimo. Vedete che la barba mi ce la sono fatta tranquillamente. Ottimo, mi piace. La pelle la sento morbidissima, sicché non è che sia malvagio. Però, insomma, con questo prezzo, qua in America, praticamente prendo un'Adriany Evans che mi costa anche un po' meno. Sicché, insomma, direi che è un pochino alto di prezzo. Per voi, comprarlo su Amazon, usa e puoi pagare l'invio. Io non lo farei. Mi dispiace per chi lo fa, ma, insomma, il sapone è normale. Non ha niente di speciale. Colonia Russell, ragazzi, gran bel rasoio, una bella macchina. Da tanto tempo sul sito di lui dice che sta facendo un nuovo rasoio che dovrebbe riuscire in vendita. Però, per ora non è uscito niente. Comunque, ogni tanto, questi si trovano usati. Se vi interessa un ottimo SE, questo è un'opzione, sicuramente. Veramente ottimo rasoio, mi è piaciuto tantissimo. Qui un pochino, appena appena, guardate, mi sono fatto un pochino, un puntino rosso di saltare la gola. Proprio roba minima, 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 minima. Che altro? Vedendo, veramente, ragazzi, non mi sto a dire, sono grandi la mente queste. Sul gruppo Telegram oggi domandavano quanto durano. E vi dico, io ho provato una volta, come avevo varie SE da provare, ci feci come sei. Da sei a otto si sbarbarba con una lametta. La sentivo ancora abbastanza performante. Con la mia barbadura, almeno sei barbe con una lametta di questi ci si fanno. Però mi è successo di prendere una lametta che sapevo che aveva come due o tre utilizzi, era più di un mese che era ferma. Provarle, sentivo strapparle, l'ho dovuta bloccare via. Non so se si sciupa a lasciarla tanto tempo lì senza usare, non lo so. Cosa gli era successa quella lametta? Non tagliava più. Sicché, non lo so, questi sono rasoi secondo me per chi li usa tutti i giorni. Insomma, non ha una rotazione molto grande. Queste lamette hanno poco senso, per esempio, per qualcuno come me che ha tanti rasoi, usa un rasoio ogni sei mesi. Ha poco senso secondo me. Meglio andare con le lamette usa e getta. Mettiamo un pochino di after. Tanto che non uso questo Tyler's. Questo è con aloe vera, però ha alcool questo. Non è semplicemente un witch house, anche alcool. E' leggermente profumato. Mi ricorda leggermente il fernet branca. Però, certo, molto più leggero, meno amaro. Però non lo so. Mi ricorda un pochino quell'odore lì del fernet. Molto buono, eh. Molto 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 buono. Allora, bruciore zero ragazzi. Dal lume propriamente mi ha tolto il bruciore. Appena 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 un pochino qui sotto. Però veramente qualcosa di lieve. Sì che vi dico il rasoio veramente ottimo. Veramente è molto 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 delicato. Sicuramente uno dei migliori SE che ho provato. Insieme al Mongoose e al Vector secondo me. Anche la Silium è un eccellente rasoio. Però pareggiorno efficace. Quello che è un pochino controllato. Questo qui il Vector, il Mongoose che è il più delicato di tutti. Invece sono rasoi che uno spensieratamente si può fare una bella sbattata. Va bene ragazzacci. Allora è tutto. E approfitto per risalutarvi. E buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.